Eccoci qua, chi abbiamo oggi in studio? Ilenia e Ambra! Ciao ragazze, che siete venuti a fare? Cantare, vuoi? Sì, in realtà siamo in produzione con il nuovo disco di Ilenia e Ambra e siamo qui a lavorare e sono pronte per il servizio fotografico, vedi? Ormai la gente viene in studio per fare il servizio fotografico. Sì, esatto. Questa è ilenia, vedi? Ciao! Questa è l'Ambra, vedi? Ciao! Ciao! Siamo qui per fare un... Questa è la mamma! Ma non è... Ma anche a casa sono così ben intusse? Assolutamente! Sì, eh! Ecco!